Buonasera, siamo qui a parlare della mostra a mercato della Valtiberina di Anghiari, mostra speciale, viene fatta fuori del periodo normale per via del Covid. Abbiamo cercato di portare un segnale positivo per quanto riguarda il nostro lavoro e il lavoro dell'artigianato, facendo questa nuova fiera a settembre, mai successo. Una piccola fiera non dura tanto quanto le altre volte, però un format totalmente diverso. Il format è che siamo fino alla sera alle 21 presenti a far vedere le nostre bellezze e far vedere il paese, perché di sera il paese è ancora più bello. Questo serve anche per dare un segnale positivo che gli artigiani ci sono anche con fatica dopo questo Covid e con le proprie eccellenze. Oltretutto questa fiera è un motore per far capire che l'artigianato è importante, molto importante per tutti noi, perché la nostra storia, noi veniamo dalle vecchie botteghe del rinascimento dell'artigianato. E questo cosa vuol dire? Facciamoci conoscere, cerchiamo di aiutare gli artigiani, perché l'artigiano che apre una bottega o è presente nel territorio è una sinergia per tutto il territorio, bisogna rifare i popolari borghi e far tornare a un valore del lavoro artigiano per i nostri ragazzi, per le scuole, per tutti. Questo è un convincimento che dobbiamo avere tutti quanti e insieme riuscire. Abbiamo delle eccellenze straordinarie, facciamole conoscere. Grazie a tutti.